Quindi adesso dobbiamo presentare Giorgio Treziani. Buongiorno a tutti, benvenuti. Benvenuti a quello che vent'anni fa era solamente un sogno. Una grande, innanzitutto grazie a tutti di essere qua, grazie alla eccellente presentazione e direi sinergia con quelli che sono i nostri valori, quello di aiutare gli altri a vivere meglio. In effetti quando vent'anni fa avevamo pensato di creare qualcosa di importante che potesse creare cultura, condivisione, collaborazione per aiutare gli altri a vivere meglio era una grande sfida, era un sogno meraviglioso ma nello stesso tempo non era così automatico, così facile che poi alla fine potesse concretizzarsi in questo modo. Si dice sempre che se credi nella bellezza dei tuoi sogni qualcosa prima o poi si accade e quindi sono veramente orgoglioso di questa giornata che ci vede celebrare i vent'anni di attività e di presenza sul mercato di un prodotto straordinario come Selfood e 50 anni nel mondo. Naturalmente il mio ringraziamento va al Presidente e all'Ordine dei Medici per questa fiducia che hanno sempre riposto in noi da tanti anni e anche al Presidente dell'Ordine Nazionale di Biologi. Festeggiamo i vent'anni di Selfood in Italia e 50 nel mondo. Pensate a qualcosa di veramente straordinario. Mi ricordo che nel 99 ho conosciuto Selfood grazie a un carissimo amico, mio maestro di crescita e sviluppo personale, dopo un incidente mortale che avevo fatto nel 97 e dove avevo avuto grossi problemi a livello di salute. Due anni al disco, due vertebre rotte, tre cervicali lesionati, 22 giorni di ospedale. E mi dissi se esco di qua con le mie gambe, cosa che non è stata così semplice, mi hanno messo sei mesi il busto, due mesi collare, un mese tuttora la gamba, cambio la mia vita. E sono uscito e decisi di cambiare la mia vita. Ma ancora Selfood non c'era. Però nel 99, in casa del mio maestro di crescita e sviluppo personale, conosco Selfood. Iniziai a provarlo personalmente e questa è la storia comune di tantissimi che poi si avvicinati al prodotto e di tantissimi che poi ci hanno dato fiducia. Man mano che lo facevamo provare degli amici e dei medici amici, tutti volevano riprovarlo e darlo ai loro conoscenti, alle loro famiglie. Però non è stato facile perché non c'era nulla. Quindi cercare di trasmettere un concetto di quello di mettere due gocce nell'acqua e avere benefici doveva andare di pari passo con la dimostrazione scientifica. E devo ringraziare i medici che oggi sono qui, relatori, che ci hanno poi spinto a fare questo per aumentare la credibilità e soprattutto avere la responsabilità di quello che noi stavamo dicendo, e cioè essere coerenti tra quello che dici e quello che fai. E quindi voglio ringraziare ognuno di loro per tutto quello che hanno fatto per noi, per me e anche per avermi fatto ragionare e crescere in questo mondo che sapete non è facile, soprattutto quello medico-scientifico. Voglio fare vedere questo video. Grazie a tutti. Questa è la dimostrazione che tutto ciò che noi vediamo spesso può essere un'illusione. Le nostre credenze spesso sono limitanti. Pensiamo di vedere delle cose e invece poi sono completamente diverse da quello che pensiamo. E quindi ogni tanto bisognerebbe cambiare gli occhiali della speranza, della fiducia. e quindi è nato questo, ci prendiamo a cuore il benessere delle persone e per questo dobbiamo incominciare a creare cultura e questo lo sapete meglio di me, ma qui che parte tutto. incominciare a trasmettere il ruolo dell'epigenetica, della prevenzione, di tutto ciò che mangiamo, beviamo, respiriamo. E ognuno di voi so che fa tanto per aiutare i suoi pazienti e le persone che ha a cuore. E poi rincominciare a parlare di mettere a posto la fisiologia e la fisiopatologia e quindi il motore mitocondriale. Ecco perché probabilmente self-food è così interessante. Perché il mondo è cambiato? Ce ne stiamo acconagendo che il mondo è cambiato? Sì? Sì o sì? Purtroppo questo è quello che stiamo facendo nel nostro mondo. Ma non c'è ancora abbastanza consapevolezza. Abbiamo la scelta? Non abbiamo più la scelta. Ogni città oggi è un problema. Possiamo solo limitare i danni e fare prevenzione. Poi sta arrivando da tanti anni la nostra tecnologia. Sappiamo che è meravigliosa. Ci permette di fare tantissime cose. Ma poi ci crea dei danni alla salute. E poi vedremo oggi quanto sia importante parlare di disfunzione mitocondriale. E come dice la Fondazione di Ricerca e Medicina Mitocondriale, state attenti che probabilmente il tuo mitocondrio è legato alla tua longevità. Quindi bisogna ricaricare le nostre batterie, regolare la corretta ossigenazione cellulare. Io metto sempre questa slide, se l'ho voluta mettere in apertura, perché l'ossigeno si parla di tutto, ho sentito bellissime relazioni in giro per il mondo, a tutte le parti, si parla di tutto fuori dall'ossigeno, che dovrebbe essere la prima fonte di vita. Faccio sempre fare degli esercizi meravigliosi, faccio tappare naso e bocca per dieci minuti alle conferenze. Senza ossigeno non si può vivere. Abbiamo scritto un libro insieme ad altri 18 medici, che vi consiglio di leggere, che è bellissimo. E poi finalmente oggi vedrete e sentirete parlare di ricerca scientifica, perché la coerenza è importante, dimostrare quello che dici. Quello che facciamo è soltanto una goccia nell'oceano, ma senza quella goccia l'oceano non esisterebbe. E penso che di gocce ce ne siano tante, che possono fare la differenza. Se hanno la consapevolezza di vivere con stupore per questa meravigliosa vita. E allora cosa fare? Ecco che ci viene incontro l'epigenetica, ed ecco che probabilmente si può anche ritornare a pensare in termini di energia, frequenza, vibrazione, informazione, ma soprattutto relazioni con le persone, che stanno mancando. E quindi ringrazio i miei genitori. Mio padre, che mi ha insegnato la cultura e l'amore. Ringrazio un mio caro amico che non c'è più, che è Guido, perché tutti gli anni, purtroppo è mancato nel 2012. grande medico, chirurgo, persona straordinaria, che purtroppo non c'è più. E questo è il ricordo di una festa speciale qua vicino, pensate qui vicino alla fabbreria, che lo conosce, dove avevamo festeggiato insieme i dieci anni di attività. E adesso siamo a vent'anni. E poi un messaggio, l'amore per la vita, perché è l'unico regalo che non riceveremo mai due volte. E non ci pensiamo. Siamo sempre, no? A domani, domani. E non si pensa mai a vivere oggi. Allora, lascio questo messaggio, prima di concludere. Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuovi orizzonti, ma nell'avere nuovi occhi. L'universo è un organismo vivente e noi siamo le sue cellule. Non so se avete letto questo ultimo articolo che è uscito, di questo fisico importante ultimamente. Siamo immersi in un universo di cellule. E noi siamo cellule. Che dovrebbero essere in coerenza a livello universale. e ricordarsi dei valori e principi universali che ci stiamo dimenticando. Soprattutto la gratitudine, la riconoscenza. E il fatto che... di guardare le stelle e non i vostri piedi. Provate a dare un senso a ciò che vedete e chiedervi perché l'universo esiste. E siate curiosi, come dice Stephen Hacking. E questo penso che la curiosità, l'approfondimento, il non essere mai sazi del sapere, di conoscere. Conoscere persone, soprattutto, che ci può fare la grande differenza. Ci può far capire che la miglior medicina è l'amore. E se non funziona, gli mandò il saggio, aumenta le dosi. Un grazie particolare, quindi l'amore senza vita non ha senso. Un grazie particolare alla mia famiglia, che mi ha permesso e mi ha sopportato fino a qua, vent'anni. E devo ringraziare una persona che ha creato tutto questo e è uno dei leader nel mondo della nutraceutica. E devo ringraziare il mio amico Kevin Negrett. Kevin. Grazie.